E' ancora notte quando i carabinieri del comando provinciale di Cosenza danno il via ad un'operazione volta a colpire la cosca di Indrangheta Perna operante a Cosenza nel suo Interland. Dopo oltre un anno di indagini partite a settembre 2014, sono state 19 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ed eseguite dagli uomini dell'arma nei confronti di presunti esponenti del clan, accusati di aver gestito un vasto traffico di stupefacenti articolato su una fita rete di spaccio in grado di rifornire le piazze cosentine e zone limitrofe. Tra i fermati c'è anche Marco Perna di 41 anni, figlio di Franco, ritenuto il capo della cosca, attualmente detenuto in regime di 41 bis. Dalle indagini è emerso il ruolo di leader che era stato assunto nel gruppo criminale da Marco Perna, che aveva di fatto assunto la guida della cosca dopo l'arresto del padre. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, per imporre il potere sul territorio, gli uomini del clan disponevano di armi e si sarebbero avvalsi di modalità tipicamente mafiose. Oltre ai provvedimenti restrittivi, infatti, nel corso delle indagini, i carabinieri sono riusciti a sequestrare droga e armi ritrovate nel quartiere Serraspiga di Cosenza. Per quanto concerne le sostanze stupefacenti, in totale sono stati sottoposti a sequestro 110 kg tra hashish e marijuana, oltre che due revolver di grosso calibro. InSEMA InSEMA